avere avere loro sono pronti ad avere una nuova casa loro sono pronti ad avere una nuova casa io ho io ho io ho molto lavoro da fare io ho molto lavoro da fare io ho io ho io ho mal di testa io ho mal di testa tu hai tu hai tu hai una bellissima camera da letto tu hai tu hai tu hai la febbre tu hai la febbre lei ha lei ha lei ha lei ha tanta pazienza lei ha tanta pazienza lui ha lui ha lui ha lui ha una nuova macchina lei ha lei ha lei ha lei ha lei ha un nuovo computer portatile lei ha un nuovo computer portatile noi abbiamo noi abbiamo noi abbiamo noi abbiamo un progetto di lingua italiana da fare noi abbiamo noi abbiamo noi abbiamo noi abbiamo noi abbiamo una decorazione molto bella voi avete voi avete voi avete voi avete un bel cane voi avete un bel cane voi avete voi avete voi avete grossi pezzi di anguria voi avete grossi pezzi di anguria loro hanno loro hanno loro hanno un problema con la loro macchina loro hanno un problema con la loro macchina loro hanno loro hanno loro hanno vestiti con colori vivaci loro hanno vestiti con colori vivaci che Grazie a tutti.